Rossano, prima di tutto, siamo nella sezione del movimento di Giuseppe Antoniotti. Allora sorge spontanea la domanda, dove eravamo rimasti? Tanto impegno, tanto lavoro al servizio della sua città, poi le note vicende, ora tanta voglia di ricominciare, di riprendere un lavoro interrotto. Ma è come dici tu, il mio è un progetto di continuità, tanto lavoro, un immane lavoro direi in quattro anni e mezzo, tra tante anche sventure, insomma, perché poi abbiamo gestito tante emergenze, l'emergenza rifiuti, abbiamo gestito un alluvione che ha sconquassato un po' la nostra città e mi ritrovo oggi con un progetto, un progetto nuovo, Rossano prima di tutto, con degli alleati, con l'Udc, con delle liste civiche, insieme affrontiamo questa campagna elettorale per poter continuare quello che è stato, insomma, un governo, diciamo, efficiente che abbiamo dato nei quattro anni e mezzo perché oggi i comuni sono in serie difficoltà, hanno difficoltà economiche e quindi tutto quello che si fa si fa con fondi, logicamente, extrabilancio e noi siamo riusciti ad attingere finanziamenti, insomma, abbiamo avviato il discorso della fusione, l'abbiamo votata all'unanimità a gennaio del 2015, ho avviato il depuratore consortile che diventerà una realtà da qui a poco, abbiamo avviato una differenziata, un progetto importante, siamo arrivati al 35% di differenziata in città, l'85% nel rione di Donnanna e, logicamente, abbiamo voglia di proseguire questo, diciamo, questo percorso che abbiamo avviato negli anni passati e che ci vede oggi protagonisti con questo nuovo movimento. Con la consapevolezza, comunque, che si affronta una campagna elettorale con più di 10 candidati a sindaco, quindi è una politica frastagliata. Ma guardi, io sinceramente, insomma, la mia ricandidatura ritengo sia forse quella più legittima, essendo stato sindaco, ritengo che avendo amministrato per quattro anni e mezzo è normale che la mia ricandidatura doveva essere, diciamo, palese. Così non è stato, alcuni soggetti politici hanno voluto che io mi mettessi da parte, sicuramente per inciuci creati nei movimenti, nei partiti, io non potevo assolutamente sottostare a questo tipo di inciucio e, logicamente, corro con un movimento nuovo, ma sempre con l'alleanza degli amici dell'Udc, un'alleanza che è partita forse nel 97 insieme a loro, abbiamo governato, abbiamo gestito tante difficoltà e oggi ci si rivede sulla stessa onda, sulla stessa strada, la strada maestra che abbiamo percorso per un po' di anni, ci si rivede per poter affrontare eventualmente gli altri futuri cinque anni di amministrazione comunale. Ci sono stati tanti episodi che sicuramente hanno provato la città di Rossano, tante difficoltà a questo territorio, un territorio martoriato, però effettivamente l'alluvione è stato qualcosa di veramente disastroso. Però, ora, da assoluto neutrale, credo che lei si sia identificato un po' con tutti i cittadini spendendosi in lungo e in largo in quelle brutte giornate. Io ho attraversato alcune vicende, le ho gestite, alcune emergenze, insomma, non in ultimo anche il Tribunale, lo scippo del Tribunale, insomma, tante iniziative che abbiamo preso come amministrazione comunale, però non ci siamo visti, diciamo, non siamo stati confortati dalla politica in generale, dai deputati, dai consiglieri regionali, dai senatori, perché probabilmente la partita del Tribunale, se veniva gestita diversamente, con una sinergia totale della politica, forse riuscivamo probabilmente a salvarlo. Non è stato così, perché anche quel tipo di situazione è stata gestita dal Sindaco, in primis, con gli avvocati, con i comitati, però forse potevamo essere confortati in maniera diversa anche dalla politica nazionale, insomma, dei deputati che in quel periodo hanno giocato, hanno giocato su più fronti. E poi abbiamo avuto i problemi della sanità, insomma, gli ospedali, i problemi, l'ostetricia, insomma, sicuramente un governo regionale che ha lasciato molto a desiderare. Abbiamo avuto il problema dei rifiuti, Scopelliti voleva portare qui a Rossano 750 tonnellati di rifiuti per poi trasferirli a Corigliano, da Corigliano trasferirli in Olanda, per il costo di 90 milioni all'anno, per due anni, quindi 180 milioni, anche lì abbiamo governato questo problema e anche lì purtroppo, insomma, la politica era assente, perché non siamo stati confortati sicuramente né dai consiglieri regionali, né dai deputati, una battaglia che abbiamo fatto, il sindaco in primis, insieme ai comitati, poi quel bando lo abbiamo scongiurato che si avviasse. Oggi pare che si ripropone, ma noi siamo pronti eventualmente anche, non più da sindaco, ma da cittadino normale, ad affrontare questo problema e stare vicino alla gente, insomma, perché non è possibile che alcuni soprusi vengano fatti ancora non solo sulla città di Rossano, ma diciamo che sul territorio intero. Dopo questo quadro viene naturale dire come riavvicinare le persone ai movimenti, ai partiti, alle competizioni elettorali, perché dopo questo quadro, fatto da chi ha ricoperto la carica di primo cittadino fino a qualche mese fa, credo che sia veramente difficile, però bisogna suscitare interesse, toccare le coscienze popolari. Ma per me parlano i fatti, quello che sono riuscito a fare, con un momento di crisi totale, essere riusciti ad attingere i finanziamenti, ad avere il finanziamento del depuratore consortile, ad avere avviato la fusione, ad aver affrontato tanti e tanti di quei problemi. Io ritengo che per me parlano i fatti. Per altri, purtroppo parlano i fallimenti di coloro che hanno avuto mansioni sovraccomunali e che hanno visto un territorio, logicamente, depauperare, da quelli che sono, come ho detto poc'anzi, insomma, il problema della sanità, il problema del tribunale, insomma, tanti e tanti altri problemi, il problema dei trasporti, come così la 106, e tanti e tanti altri problemi che sono rimasti lì in evasi, insomma, perché ognuno si fa le proprie campagne elettorali dicendo che tenterà di risolvere i problemi del territorio, però purtroppo poi, come ho detto in altre occasioni, non si fa altro che riscaldare gli scranni eventualmente della Camera dei Deputati, dei consigli regionali e non portare assolutamente nulla al territorio. Così è stato qui anche negli ultimi cinque anni, quindi per gli altri ritengo che parli il fallimento totale di quello che è stato. Per me, diciamo che parlano le azioni, parlano i fatti, perché da sindaco ho fatto quello che ho potuto, la lotta al tribunale, mi riconoscono tutti la capacità di aver affrontato con determinazione la problematica, la lotta ai rifiuti ritengo di essere stato presente, come così anche sulla sanità, insomma, il sindaco ha fatto il proprio dovere cercando fino alla fine di poter ovviare a certe situazioni, però purtroppo, insomma, non essendo stati poi supportati, come ho detto poc'anzi, da politici che hanno ruoli sovraccomunali, diciamo che alcune situazioni sono rimaste poi incancrenite. Andiamo a quello che sarà invece, non chiamiamola battaglia, ma la competizione elettorale. Lei i sassolini dalle scarpe si è tolti ampiamente, anche con comizi pubblici, ma mi dica adesso la verità, come se non ci fosse la telecamera, ci conosciamo da un po'. Gli avversari di questa competizione elettorale, per lei, sono tutti uguali? Sono avversari che, logicamente, ci sono anche i traditori, insomma, coloro che hanno lasciato la strada maestra per fare alleanze, le alleanze degli inciuci, le alleanze degli intrallazzi, insomma, sono quei personaggi che ho deciso di chiudersi i rapporti, sia a livello politico che a livello personale, per me sono tutti avversari politici, sicuramente, insomma, centro-sinistra è il primo avversario, perché nei governi di centro-sinistra abbiamo assistito a un fallimento totale, mi riferisco all'Aggiunta Filareto, ma non tanto, forse al Sindaco, ma a tutti coloro che lo hanno qua adiuato, perché quello che è successo in quei cinque anni, penso che rimanga nella storia di questa città e che i cittadini non dimenticheranno sicuramente. In conclusione, chi l'ha convinta, senza tentennamenti, a rimettersi in campo con Rossano prima di tutto? C'è stato qualcuno che magari è riuscito a toccare particolarmente le sue sensazioni? O è stata una scelta di getto dopo quello che è accaduto? Mi ha convinto solo e soltanto la gente, perché qui ci sono i traditori, ma poi ci sono i traditi. E i traditi siamo io e la comunità rossanese. E mi hanno convinto, spronandomi, stimolandomi, tanti tanti cittadini ad andare avanti, ad affrontare questa campagna elettorale, per tornare nuovamente ad amministrare la mia città. Dalla sede di Rossano, prima di tutto, ringraziamo Giuseppe Antonino, ti in bocca al lupo. Crepi il lupo. Crepi.